Ero al castello dei Foschi per restaurare una tela che il Duca voleva vendere. E poi cosa accadde 25 anni fa? Una primavera d'amore. Angelica aveva 15 anni, io appena 18. Il Duca ci sorpresa e mi cacciò via con un mare di minacce. Io allora ero anche un ragazzo, non ebbe il coraggio di ribellarmi e fuggire via. Senza ascoltare le suppliche di Angelica che diceva di aspettare un bambino da me. Pensai che fosse una scusa. Un modo per trattenermi. Io non mi ero accorta di me. Non l'ho mai dimenticata. E qualche anno dopo sono tornato a cercarla. Ma ormai era tardi. Angelica è morta. Ho sempre sperato che quel bambino mi sia trovato una famiglia. Ci ho messo molto tempo a... riuscire a restaurarmi. Tanto divertente il bambino è diventato un omino di due metri. Non potrei essere... Questo vuol dire che... Tu non sei figlio di Duca. E non abbiamo lo stesso sangue. Questo vuol dire che possiamo amarci. Ma Susana, cosa amarci? Tu sei mia fidanzata. Cosa sta succedendo qui? Alla buon'ora. Mi si stava stancando i bracci. Come si è introdotto con un arco? Arrestatelo. Prendetelo pure, tanto gli scarino. Allora? Si può sapere cosa sta succedendo, sì o no? Praticamente cosa sta succedendo? Ciao a tutti.